Oggi andiamo in Toscana con i fagioli all'uccelletto. Ho messo i fagioli e i cannellini a bagno ieri sera. Li cuociamo, li mettiamo in pentola a pressione, li cuociamo con acqua, senza sale mi raccomando, e li cuociamo in pentola a pressione circa 25 minuti dall'inizio del fischio. Quando sono cotti, li scoliamo e conserviamo l'acqua di cottura. Tagliamo il budello della salsiccia e la sgraniamo. Olio extravergine d'oliva e salsiccia. Uniamo aglio e salvia e facciamo rosolare. Nel frattempo sminuzziamo i pelati. Quando la salsiccia cambia il colore, togliamo aglio e salvia e uniamo i pelati. Mescoliamo. Abbassiamo il fuoco e facciamo cuocere circa 15 minuti. Meraviglioso. Mettiamo i fagioli. E mescoliamo. Un po' di acqua di cottura. E lasciamo cuocere ancora 10 minuti. E uniamo anche un po' di rosmarino. E verso fine cottura, assagliamo. Guardate che belli ci siamo, possiamo spegnere il fuoco. E servire belli caldi nelle nostre cocotte. Macinata di pepe. Un po' di rosmarino. E un filo di olio crudo. E pronti per l'assaggio. Buonissimo.